Sono il rappresentante della Malegno Carni, ci occupiamo di macellazione, produzione di salumi, macellazione di bovini e suini, produzione di salumi tipici della valle. Siamo a Malegno, in via Sant'Antonio 19, dove abbiamo anche il laboratorio per la produzione dei salumi. Abbiamo un negozio, un punto vendita a Pianvorno, in via nazionale 127. Colgo l'occasione per salutare i miei clienti e per venirsi a trovare nei nostri punti vendita.